Il problema non sei tu, il problema sono io che ti vengo a presa e mi hai fatto buttare 2.500 euro in quattro mani di poker, come buttare dalla finestra così 2.500 euro. Ciao, ciao Saldini, ciao, ciao, ciao. Ole, chi le teneva più mazza che la cerovella? Vieni qua, abbiamo trovato il pollo, ci ho cucinato in 4 e 4, 8, Invece è lui che ha cucinato noi in 10 minuti. Bisogna anche dire che le tenevi più mazza che la cerovella? Bisogna anche dire che tu non sei quello poker. Perché? Ma come vai a vedere un piatto di 700 euro con due sette in mano? Ole, io avevo quasi scambato il bluff. E invece teneva il full? E poi c'è stato quasi. E poi uno che va a vedere un bluff deve avere almeno un minimo di punteggio in mano, non puoi andare a vedere un piatto con due sette in mano che ho punti più stronzolo poker. Ole, previ più mazza che la cerovella. Il problema è che ha trovato due di noi che non tenevamo ne mazza. Ne cerovella. Esatto. Va bene, andiamo. Dai, non ci abbattiamo. Dai, non abbattiamoci. Su, andiamo a scimmene poco. Andiamo a scimmene. Andiamo a scimmene. Andiamo a scimmene. Dove andiamo? Andiamo. No, è assoluto. Hai capito? No, no, no. Ma che fai? Ma che sei scema Paolo? Andiamo a te fai abbattere così, no Paolo? Ascolta. E' come quando uno cade da moto. Se uno cade dalla motocicletta sennò risale. Si torna a pera la carne. Non è così. L'esempio si fa col cavallo. Quando uno cade da cavallo deve risalire. Che c'è secca la motocicletta. C'è secca. Quando uno fa il cavallo la motocicletta è pure carandella. E va bene, va bene. Comunque come va a mangiare? Con il cavallo? Con il cavallo e a mangiare. Oh, il cavallo già sta là. Un cavallo sicuro, Paolo. No, basta questo fatto lo cavallo sicuro. Qua una cosa è sicura è la morte. Basta quei cavalli sicuri, sicuri, sicuri e sicuri. E perdiamo sempre. Basta. Ciro. Basta. Vabbè basta. Oh. Poi come si chiama questo cavallo? Kamikaze. Come? Kamikaze. Kamikaze. Ed è adatto per noi. Perché noi siamo due? Kamikaze. Ecco. No, 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 no. Questo è kamikaze. E noi ci rimarriamo prima questo. No, no, no. Ho detto basta e basta. Ma boh. Va bene. Buttiamo al vento l'unica possibilità di rivalza. Tu non puoi fare questa pressione psicologica così, Aretano, Cirovull e poi non va. Non è giusto, non è corretto. Ma boh, allora lascia sta. Basta, ho detto, quando la parola è uno, è uno, è basta, è basta. E basta. Lascia sta. Ma ammesso pure che noi andiamo a Gnano a giocare. Con quali soldi andiamo? Con i miei. C'hai soldi. E c'è. Quanto ti è? 12 euro. E perché invece non investi in coppe e mura? Ce l'ha accattata una casa. No, ti ha accattato a mezzo che lei lo viene in coppe e mura. Ma ero un amico con 12 euro. Ma perché? Ma pure che figure possiamo fare? Andiamo a Gnano e ci conoscono. Io cacciamo una puntata di 12 euro. Mi avevamo sempre fatto mille, mille e cinque. No, no, no. Ma poi ci ha accattato una fama, ci ha accattato una parrucca. Non pare lento. Andiamo a spiegare i primi 15 euro. E perché mi affanno? No, 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 no. Ma tu non mi ha retto, Paolo. Ma non si, non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo. Ma non lo sai che cosa mi affastidisce? Che cosa? Il fatto che ti arrendi. Perché? Ma come? Ci mancano i soldi e uno si arrende. E li pigiamo? Se ti dico una cosa? Bici. Libretto al portatore. I soldi di bici non esiste proprio, Valeno. Non ho detto mica i soldi di bici, ho detto libretto al portatore. Perfetto. E c'è stato un libretto al portatore in questa casa? No, no, no. Ma allora è una proprietà transitiva, bici che tenono libretto al portatore e allora è colpa sua. Paolo, Paolo, i soldi di bici non si toccano. E noi non li toccheremo. Cioè? Ce li giochiamo online direttamente dalla banca anche al post italiano. Ah così, sì. Ah, che magica visione. Io quando vi vedo insieme mi viene un miscuglio di ansia, rabbia e schifo. Buongiorno amore mio. Quante volte ti devo dire che non te la faccio questo? Oh, tu le hai portate in casa, è comunque il tuo fidanzato. E infatti non ce l'ho conti, ce l'ho con lui. Quante volte ti ha detto che non te la faccio questo. Che state facendo insieme? Da dove state venendo? Quanto avete giocato e quanto avete portato? Ah, senti, ma tu non puoi condannare a prescindere. Ah, non ne fai i processi all'intenzione? No, Ciro, il tuo processo non ci arriva, te ne è brutto in te zio. Marisa, basta con questo fatto che ogni tanto punti la pistola. Basta, basta, non ce la faccio più. Oh, spari, oh Ciro. Eh, eh, ce l'ho a mano. Anzi, ce l'ho chiamato. E poi basta, oppure devi abbassare questa pistola. Hai ragione. Le situazioni mi hanno affrontato i faccio. La faccia la piglia ora. Abbassa la testa. Devi abbassare la testa. Mai! No, hai ragione che devo andare da bonsai in ospedale. Sino sta faccia la facevo come una zampogna. Adesso io devo andare via. Vi lascio soli. Io non dico che non dovete combinare qua perché sarebbe impossibile. Però almeno tutti e due limitate i danni. Siamo chiari? Eh, come non lo sentite? Dobbiamo limitare i danni. Allora? Prendiamo il libretto. Ma non ne capite niente, scusa. No, credito. Dobbiamo limitare i danni. Io e te. Eh. Il libretto di chi è? Di Bici. E quindi noi? Stiamo a posto. Andiamo, prendiamo il libretto. Io non ci posso credere. Non ci posso credere con che coraggio. Mirabice, ma tu è sassegura che l'hanno presi loro. Ma se tu l'hai finito di dire adesso che hai visto Ciro Paolo e Ciro da soli a casa. Hai ragione. È sicuro? Eh. Mannaggia, mi sono andati a prendere i soldi che mi servivano per guarire Pachialone. E chi è il Pachialone? Pachialone è il pony che tenga in affidamento. Scusami, ma io sapevo che quando i cavalli stanno male non si abbattono. No, Pachialone è un tipo che è forte. Tiene un bel carattere. È un cavallo che non si abbatta. Ma si abbattono nel sentito che si ammassano. Ma che si scema? Vuoi ammazzare a Pachialone? Uh, tu non hai capito. Pachialone, Omaro. Pachialone tiene una malattia rara. È praticamente unico nel suo genere. E che tiene? È il primo cavallo al mondo autistico. Autistico? Eh. E se insergesse un pazzo, un loco? Vabbè, diciamo una specie di pazzia. No, proprio pazza. Vuoi sapere come ce ne siamo accorti? Dai conti. I conti non tornavano. E la quinta? No, la sesta. Veramente il sei, più o meno. Perché io facevo tre più tre quando fa. E poi mi rispondevo uno, due, bravo. Sei volte con lo zoccolo per terra così. E mi rispondevo sei, capito? E intonse non sei su un autistico. È su un genio. Vabbè, ma se non direi genio mi senti. Non me le farei domande. Genio? E nel sentito che è un genio? Ah, il cavallo è un genio. Vabbè, proprio un genio. Non esageriamo. Tiene 3.500 tic. Uh, per nacchi che ne fa all'improvviso. Solo lui. Cambiano tutto Stuart. C'è bisogno di cure continue. E chi le si sono andati a giocare i soldi di Paglialona? Ma tu sei sicura che se li sono giocati? Senti, Carol, secondo te, Paolo e Ciro con una libretta della banca in mano, che cosa possono essere andati a fare? Un'offerta di beneficenza. Mira, amici. Io non intendo perché tu hai quell'ossibale in mano. Mo' intendo io. Sai perché tengo l'ossibale in mano? Perché appena vedi entrare a Ciro non la faccio nemmeno entrare dalla porta che glielo tira appresso. Come vuoi? No, no, Fè, Fè, Fè. Vengo con te. So qua. Fammi accompagnare. No, perché devo accompagnare mio marito Angelo, la barbiere, se devi tagliare i capelli. Eh, ma tuo marito Angelo ha il barbiere. Non puoi andare da solo, scusa. Tu sei loca? Eres pacuda? Sei scema? Mi marito Angelo da solo la barbiere? Dove ci sono tutti i giornali maschili di donne desnuda? No, tu non sei buono. E come fai a vivere così? Oye, mi hijita, io me guardo il mio. Quello che è mio è mio. E non si tocca. Io me guardo il mio. Guardo, guardo solo tu, hai capito? Ma che glielo? Fa schifo e nessuno sopiglio. Io mi voglio. Va, 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 va. Adios. 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 Mannaccia la miseria, manaccia. E questo non si vede venire. Ma non appena torna lo devo spennare come un pollo. Lo devo spennare. Lo sapevo soli. 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 E di questo cavallo partevelo e venivano alle panse. Correva sempre perchè voleva in due cestri e vinceva la cassa. Cos'hai che che non ha funzionato oggi? Lui era abituato a correre sui 1800 m, la cassa oggi era sui 2010. A 2000 si è cagata sotto. A dieci metri dal traguardo e ha vinto il secondo perchè è il gioco. Vabbè ma qualcosa inventeremo, non te preoccupaci. Qualcosa inventeremo. Paolo. e mi vuoi dare il tempo di pensare tranquillo e io penso di qua e mai si pensa allora tanto zitta esatto ti sei giocato i soldi che servivano per paglialone e chi è paglialone il poni che devo curare secondo te paglialone è più importante me almeno gli tiene una dignità e poi io le tengo una dignità non ce l'ho va bene hai ragione non ce l'ho ma comunque sono meno importante paglialone a po' pazienza aveva bisogno di cure e anch'io che cosa che cosa io ho detto aveva bisogno di cure e ragione anche ho bisogno di cui che hai che ho sì che ho sì i dottori non sono stati chiari mi hanno dato al massimo uno due tre mesi di ferie evitano come di vita una malattia rarissima quasi unica la chiamano la malattia come la chiamano tanto che è nuovo che non la chiamano se vuoi sapere stanno passando pure i mando sto sono stati carini visto ma chiamano la sindrome di ciro mamma stai sfruttando ciro ti sfrutto a pochi giorni dal trapasso tu pensi che sto sfruttando scusami ma dire una cosa non dire scusami perdonami che io sto agitata capite può essere che è una malattia che non è tanto grave non è tanta grave ma non è tre mesi di vita i sintomi poi sono stati chiamano quali sono quali sono i sintomi che sintomi hai nessuno casta la cazzina questa malattia arriva l'improvviso di cadere addosso e come te ne sei accorto che poi dopo arrivano i sintomi dopo a pacienza si aspettano atti per la riga malattia di cerchi cacchio ti mostro il freno fammelo e niente a qui mi sono stati la mamma per avere una mamma per avere una mamma per non signor questa cosa lascio i denti stretti come non vuoi andare no questa è quanto un cozzo non sta la rabbia non signore e quando è la barba come la barba? non decresce la barba ma io avevo la barba? infatti perché poi si toglie il primo sintomo e arriva il secondo secondo sintomo è che... tu gira la testa no no e poi la mano si muove come la mano si muove? questo movimento incondizionato la mano è una figura di merda mia sapete che il cammino tutto quanto che ti guarda la gente ha finito in persona con la mano che si scattrì dei tram mi diceva di che la mano si muove ma no che la mano faccia spiegare che era la malattia io non ci vedo chiaro ma anche io infatti il terzo sintomo si? è l'abbassamento della vista ma come l'abbassamento pure della vista? coi 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 che è? ciro no ciro non mi fai mai io sto qua ciro sono davanti a te mamma mia come si bello tu mi dite che non giovi esatto no ti vedo con gli occhi dell'amore no? figlio mio ma figlio proprio i davvero e i soldi a che ti sono serviti? che i soldi a che ti sono serviti? ti ne ho a questo ingerimento amore e che te l'hai detto? no te lo dico io i soldi sono serviti per la cura no? allora c'è una cura? no e i soldi allora? neanche i soldi sono serviti per la ricerca e quando l'hanno iniziata sta ricerca? oggi l'hai già cominciata oggi? ah non l'hai cominciata? poli clinico sono andato a poli clinico mi hanno fatto subito una lavaggia allora? l'opera? no a macina no a macina lo poli clinico? come te l'hai già sbargata? sono subito i tre infermieri uno con la pezza a mano andate con la pompa con la macchina bella pulita pulita ma dopo ti chiede contro una moglie e gomme e l'acqua e c'è una lavaggia e l'acqua no a macina l'ho organizzata e poi sono andata da sopra a fare questo e mi hanno fatto una lavaggia di due due rotillo come un pignolo un pignoletto che dice proprio là sta una vena specifica di questa mano la che non c'è una buona tu mi hai detto che hai sconosciuto no stanno a bianna a conoscerla bene ma ti ricordo tutto quello che trinco è normale e niente e mi hanno fatto questo lavaggio tre ore con la coscia del pignolo bucoretta amore mio amore uccino Ciro hai fatto tutto questo praticamente da solo no con Paolo ah Paolo lo sa Paolo lo sa Paolo non lo sa lo sa o non lo sa lo sa o non lo sa Paolo non sto capendo lo sa ma non lo sa vuoi credere Ciro guarda come è troppo Ciro io mio Rambo come si bello io per un uomo così farei pazzia e allora ecco fuggiamo insieme nella giulla ti va Paolo ma che funziona la capa no ma fa male perciò mi sono messo la fascia te ne sono i patana no te ne ha un uomo no no lascia la televisione ci dobbiamo ubriacare ubriacare d'amore che ti posso offrire c'ho un whisky invecchiato da 12 anni nella botte no in tu mobile è un vecchio regalo che faccio lo prendo no le ha età e allora che ti posso offrire che ne so un sigaro un sigaro e poi dopo che faccio l'amore con Cia Guevara mamma mia Paolo non ti fanno così lungo che stanno stanno lungo con me perché non ti lasci un po' andare a dove farò un quinto piano aspetta vai forza schiattalo un corpo spacco le rene scamazzo il polmone è la femminilità che mi fa impazzire tu che puoi a me stasera io ti volessi fare le stelle che puoi fare ho comprato un cannocchiale dai cinesi che dici lo proviamo insieme viene un po' che idea strana malsana che mi era venuta di fare l'amore ma viene un po' due fidanzati che fanno l'amore mamma mia Paolo tu mi sembra la stessa cosa sembra la stessa cosa mi mamma l'hanno fatta ma come mamma l'hanno fatta eh perché quanto tempo è passato ce ne doveva essere ancora la lira come si è esagerato saranno almeno sei mesi lo sai sei mesi allora mi tocca almeno spegniamo la televisione no così o niente così così ma con dente ma dopo dobbiamo o poche gente e può darsi speriamo io non posso vivere senza di lui invece che è successo Ciro sta morendo o tu che dici ma che state facendo così stavamo per fare l'amore l'amore e non avvi la posizione l'uomo a te spalla ma che stai facendo Ciro ha un male sconosciuto è incurabile ma sei sicura sicurissima sai che cosa vuole dire questo cosa che gli ha già aspettato i sei mesi miralo che pena che mi fa hai capito che io resterò vendono ancora prima di sposarmi ma tu ti riesco a essere fuerte non ti devi scoraggiare ma zzi meno male ma non strillate non mi allucate che mi ribomba nell'orecchio mi piace scusa amore che noi facevamo due chiacchiere senza lo sanguinare no non ce l'abbiamo nel periodo amore prendiamo un bicchiere l'acqua ma come stai vicino il frigorifero però non lo prendiamo neanche un bicchiere l'acqua va bene va bene ma siamo risolosi morirò da solo come i telefanti eccomi eccomi tu stai qua vai amore mettiti vicino a Karol che io potevo capire l'acqua e che fu prendi il calcolo non lo prendi il calcolo e perchè questo non ti piace ma parlo di un frigorifero ma che cosa vuoi? a chi è un frigorifero? eh perchè non lo prendi la macchina di qualcosa? ma non lo stai portando pure il cenovello ah Karol non hai saputo si si che vuoi fare? è la vita o meglio la morte io non ci voglio pensare ma tu riesci a essere forte il mio papà era in là il calcolo è forte il calcolo è forte? no forte ah forte ma tranquilla sai che il samurai che è in me lotterà fino alla fine come ti allero? fuori aoi io l'ho bella ecco l'acqua ecco l'acqua hai bisogno di qualcosa? io attualmente non ti preoccupare se abbiamo bisogno di qualcosa ti chiamiamo noi allora io vado alla Guardiola va ma e poi adios va adios e non ti preoccupare che il samurai che c'è in me non mi abbandonerà scusa amore che io mi arrabbio quando vedo le femmine scelte sei gelosa? io non capisco che cosa cioè tu che c'hai da invidiare a quello è una cosa niente proprio amore dimmi un po' ma mamma mi sa cos'è cosa è stata l'annessa ma mamma mia sentiamo io che cosa? vuole stare? la caramena? no vuole stare vuole stare giù il bulletro a snaio o banglotto è così che fai il bulletro? eh va giù un attimo a snaio? ma non mi sembra il caso però c'è un contraddice quale? qui? ho stomaca mamma mia ho fatto coraggio ci abbia di stomaca niente perché posso digiunare? è un caccio niente ma mi piacere mi vuoi negare questa ultima gioia ha ragione scusa è che io sono stonata pure io che io sto un po' agitata allora ti vado a giocare le bollette dammi i soldi eh i soldi un uomo che è? un uomo che è? un uomo ma io ma come fai? a pensare i soldi da un uomo così drammati scusa che io mi sono agitata morire per la situazione vado io 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 ma 100 200 300 300 mamma mia sto fatto non mi vado a vincere un uomo cacca non mi vado a vincere voglio vincere voglio vincere voglio vincere voglio vincere amore sto qua ah stai lì amore no che sennò sto qua mandi a te ecco ma mi vedi tu non mi vedi è assai meglio amore è assai meglio andiamo ti accompagno fatti coraggio capito e credi ancora in come si chiama un samurai che sta dentro di te non ci credi a 6 non ci credi a chi già niente di me non è durata manco 5 minuti questo samurai mi vado a me ma non vuole un samurai fa schifo a chi vai amore vai vuoi che sto avvicino a te no amore ti rubo il banglotto vai vado e torno ma mamma mia ma è la nascere ma è vice di qua scusa non ti trovavo eh ma come mai questa fretta vice entra accomodate e chiudi la porta si entro mi accomodo e chiudo allora entro mi accomodo e chiudo e non ci arrivo come devo fare entro entro chiudi la porta e poi ti accomodi ah ok faccio la corsa o va bene compres buongiorno e buonanotte ah aspetta non cazzo una corsa ah ah ma si la parcheggia da si trova e non tipo vecchia ah vice io sento una puzza uè scusa aspetta marina io stavo dai cavalli ho fatto una corsa allora là dentro non vedi quando c'è un po' di e ci sono forse andata coi piedi su niente forse a te tu lo sai io ti voglio bene come una sorella si ma sono trichione che sente sta puzza allora io non c'entro niente mi sono arrivata ma come non la senti no e c'ho pure il raffreddore e non fare la falsa ingenua ma quale falsa ingenua ah già che lo vera e scema eh salmi a sentire dice a me la cosa mi puzza ah e il mio compagno ne sa qualcosa e beh certo se non lo sa lui pure il mio fratello che sarebbe il tuo compagno ne sa qualcosa non so quello quelli son culo e camicia in che senso scusa sono complici sono complici hai capito eh vabbè ma questo è un problema che è tuo non è mio scusa no è un problema pure tuo io ne ho nessuno problema ma il problema non è mio e ne manco mio marisa mi fa piacere che reagisci così ma perché mi hai chiamata a me ma come perché ti ho chiamato perché tu devi essere informata dei fatti i panni sporchi si lavano in famiglia hai chiuso il detersivo che faccio da bice paolo e ciro hanno preso i soldi dei tuoi risparmi li hanno giocati li hanno persi e stanno mandato fatta la malattia e ciro è chiaro adesso ergo dobbiamo incastrarli ho capito ma ergo chi è? io sto facendo delle indagini e se i miei sospetti sono fondati per cric e croc non c'è scampo chi sono nato io? aspetto mi avete cercato? eh un'ora fa dove sei stato? a prendere i test perché abbiamo un testimone? no ho avuto test gravidanza di mia moglie ascia ascia aspetto ascione ascione oi tu avrei chiamato i cognomi non ce la faccio tu con questo cognome non arrivi da nessuna parte tutte le grandi star per diventare qualcuno hanno cagnato cognome lo sai che è veronica ciccone? no madonna lo sai che è gianni calone? no massimo ranieri bravo lo sai che è mary weiss? no sono un giga ma io non posso mai sentire di chiamare così volumo fast food comunque stai a sentire ascione ti avevo chiamato per una cosa precisa sei tu che è il fratello che fa l'infermiere al policlinico? si signor e allora devi scoprire chi si è occupato della malattia di mio fratello Ciro è una parola mary quello il policlinico è un paese brava ragione la signora piacere vice signorina ehi che fai una cannella? la signorina è impegnata prossimamente vedova allora stammi a sentire è vero che il policlinico è un labirinto però tu sei un poliziotto e devi scoprirlo hai capito? adesso vai al policlinico con i piedi tuoi se no domani fu l'ambulanza si signor mi aspetta tu corro e questo viene il mese prossimo vice stammi a sentire se è vero che mio fratello ha scherzato su una cosa così grave senti marisa marisa io devo dire la verità veramente l'ho visto un poco proprio male lo vedevo veramente ma tu devi finire di giustificarle capito o no? lo giustificheresti anche se lo trovassi in flacanza di leate io ho un fiuto infallibile il mio fiuto non sbaglia se oggi sono tutta una puzza eh mannaccio raffreddo non so capace la sanità la puzza zitto si amore eh senti fatti trovare pronto ho una sorpresa per te l'amore dopo sei mesi sarai mia marisa a limoncella l'ha già falloggi di tutto cosa è aperto ciao amore ho fatto un po' tardi sai si ti stavo aspettando veramente non hai idea che l'hai già combinato tu non hai idea che l'hai già combinato io a te si a così mi piace aggressiva allora come voli mi fa? vuoi partire romantica, appassionale o violenta? scegli tu no violenta, troppo violenta ma che mi sembrava? io sono venuto qua per interrogarti no per fare flippo flippo dimmi tutto quello che sai che già sapevi? la rivoluzione francese ma che fa questa rivoluzione francese? è una domanda a piacere che già sapevi? dimmi tutto quello che sai sulla malattia di Ciro ah ah e tu vorresti che io devo tradire un amico? io non lo farò mai Marisa ehi spara non ti comprova guarda che la colina tu mi la vedi se è cagato sotto e io mi metto tutti i soldi e pince ma che schifo era ora Marisa non mi ha dato neanche la possibilità di torturarlo un poco subito la spifferata io che schifo io sono proprio l'omenia schifo Marisa ammazzami sono pronto ma non mi fai sentire olore tu non guarda mi spara burais a me la morte non fa paura sai? no 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 perché vedi è la consapevolezza di lasciare questo mondo fatto di ingiustizie, cattiverie, dolore, dolore, maniglia e anche vedi la curiosità ecco di vedere l'aldilà ma hai la forza incredibile lo sape amico e anche perché sono stanco di soffrire ecco di combattere contro tutto e tutti e poi sono fortunato perché il samurai che c'è me non mi ha mai abbandonato sei un grande uomo mi sarebbe piaciuto conoscerti prima non mi da l'esercivo fare triste, ciò buono, ciò buono, ciò buono eh uè, che stai facendo? ah niente ma mi stai grattando le taschele tu hai fatto il tuo dovere? e io shabash va? shabash amore bello vieni qua fratellino caro abbiamo trovato la soluzione alla tua malattia no bello glistera ah minu ma mi è andata bene che te l'hai detto a te? e che quale è la mia punizione? fare il cristale a Ciro, vai ah